ciao buongiorno allora stavo scrivendo un articolo sul silenzio e dell'importanza di diventare consapevoli della dei vari tipi di rumore dei vari tipi di silenzio e del fatto che molti di noi hanno spesso paura di quel silenzio e di quanto in realtà anche i nostri pensieri fanno rumore quindi stavo scrivendo insomma questo articolo e dell'importanza di della meditazione che facciamo noi di consapevolezza per andare a diventare sempre più consapevoli di quello che è quelli che sono i diversi tipi di di rumore e di silenzio quindi adesso andremo a fare insieme la nostra meditazione di consapevolezza così per andare a creare sempre di più uno stato di percezione sensibile di questi di questo tipo di silenzio ok allora troviamo una posizione comoda e chiediamo gli occhi cerchiamo di avere la schiena più dritta possibile appoggiamo le mani sulle gambe con i palmi rivolti verso l'alto rilassiamo le spalle portiamo un pochino il mento verso lo sterno e rilassiamo il viso cerchiamo di mantenere l'immobilità del mio del corpo e portiamo l'attenzione verso il respiro e andiamo a inspirare con il naso gonfiamo l'addome il petto ed espirando lasciamo andare sempre con il naso continuo con questa respirazione e porto l'attenzione ai rumori intorno a me a ogni rumore senza giudicare senza fare differenza piano piano passo da rumore a rumore osservo cosa accade dentro di me le reazioni che ho dei vari tipi diversi di rumore poi ritorno ad osservare tutti i rumori intorno a me per poi andare ad osservare il silenzio o la sospensione che c'è tra un rumore e l'altro piano piano眺 non servo i rumori osservo la reazione che ho ai vari tipi di rumori e osservo l'istante di silenzio tra un rumore e l'altro osservo i rumori osservo la reazione che ho a vari rumori e osservo l'istante di silenzio tra un rumore e l'altro poi lentamente ritorno con l'attenzione al mio respiro osservo osservo il mio respiro e l'istante di sospensione tra un respiro e l'altro e poi ritorno ad osservare il mio corpo e lentamente apro gli occhi ok questa è un'esperienza molto particolare e più la facciamo e più diventiamo consapevole di tutto quello che accade intorno dei vari rumori dei vari silenzi e piano piano diventiamo diventiamo consapevoli anche dei rumori tra i pensieri e del tipo di pensieri di chi ci è di fronte grazie mille e e buon resto di giornata ciao